Quello che vedete, che è l'emblema, lo scetro della televisione, è sicuramente l'elemento che a mio parere rischia di togliere credibilità e senso al contenuto che state osservando. Questa è la televisione, stata inventata in Italia nel 1953, primo gennaio, è la prima trasmissione della RAI, siamo ormai a quasi 60 anni. Quella che state vedendo invece, e lo state guardando tramite un computer, si chiama web, per sua disdetta si aggiunge tv, ma è web, cioè una rete lì dove la comunicazione e il rapporto fra produttore e utente tende alla identificazione più assoluta. Quello che vedete invece è uno steccato, è come il muro di Berlino che separa, io parlo, voi ascoltate, io decido e voi subite. Questo gioco è finito, è finito nel 2002 quando Google ha schiacciato il primo bottone e ha deciso che chiunque può disintermediare chiunque. Oggi persino un medico è minacciato dalla rete perché il malato arriva in ospedale già con la diagnosi definita e la negozia con il metodo. Pensate l'informazione o la comunicazione. La web tv non può essere un bonsai, una riproduzione, un laboratorio, un presepe della televisione, deve essere un'altra storia, deve essere un circolo, deve essere un bar, deve essere un salotto, deve essere una conversazione. E questo dà valore aggiunto. È il motivo per cui Facebook prevale su Google, è il motivo per cui oggi la comunicazione avviene tramite il passaparola, è il motivo per cui non c'è più il camice bianco e non si riconosce l'autore rispetto allo spettatore. Questa è la grande avventura che stiamo vivendo, è la grande storia che è iniziata e di questa storia quella che avete davanti, la web tv che state guardando, è uno degli strumenti, uno delle scorciatoie, uno delle macchine del tempo che vi sta facendo vivere questa emozione. Dovete pretendere di più, dovete pretendere immagini poche, maledette ma subito, dovete pretendere contenuti che avete prima tutti nella vostra testa, dovete pretendere la possibilità di parlare almeno quanto parlano chi sta dall'altra parte dello schermo. Questa è la civiltà del momento, tutto il resto è farsa.